Delusione ma anche soddisfazione dopo il tripice fischio al Trastevere Stadium per il Trestina che cade 2-0 nella finalissima play-off del girone E di Serie D contro Trastevere al termine di un'annata strepitosa per la società del presidente Bambini con il record di punti ben 56 nella quarta serie nazionale e il terzo posto in classifica a chiusura della regular season. Nell'impianto, posto nel complesso della storica Villa Panfili, Mr. Bonura non poteva contare su bomber e su si infortunato e portava solo in panchina l'estroso Crivec a ciaccato e la grande chance per i bianconeri arriva al tredicesimo. Da rimessa laterale profonda Benedetti prende posizione in aria e con un sontuoso tacco pesca Gramaccia chiuso sul più bello da San Nipoli. L'azione è alimentata però da Schaffa che controlla e calcia dal limite, super tuffo di Casagrande che si rifugi in angolo. Al ventottesimo punizione dai 25 metri per i bianchi amaranto, alla battuta va lo specialista allo russo, gittata chirurgica a scendere sopra la barriera, mazzone battuto ma la traversa salva il Trestina. Quindi al trentaquattresimo, sugli sviluppi di una punizione che genera un flipper in aria tra Steverina, Benedetti insacca di sinistro da distanza ravvicinata ma l'arbitro, lungo di Napoli, annulla per posizione irregolare dell'ex vispesaro ma i dubbi restano sia perché l'ultimo tocco di un giocatore del team romano che per la posizione di Crescenzo sulla destra che sembra tenere in gioco l'attaccante bianconero. Si passa alla ripresa e dopo 15 minuti Cenerini, in fase di disimpegno, regala maldestramente palla a Roberti che tutto solo dinanzi la porta trafigge Mazzoni in uscita per il vantaggio tra Stevere. Gol di rapina per il centravanti romano ma madornale l'errore del difensore bianconero che tre minuti dopo completa il suo pomeriggio da incubo sul lungo Tevere quando lo russo scappa con un taglio centrale a fumanti e penetra in aria. Mazzoni in un primo momento lo contrae ma sul rimpallo ancora lo russo cade a terra dopo la stretta sandwich del duo fumanti-Cenerini. Per l'arbitro il fallo è di quest'ultimo ed è espulsione per Cenerini e calcio di rigore per il Trastevere. Dal dischetto va Roberti che calcia piuttosto centrale, Mazzoni però viene superato in modo beffardo da un rimbalzo della sfera che termina in rete per il 2-0 e la doppietta personale di Roberti. Bonura inserisce Kribek per Belli ma è squersanti a gettare all'ortica il Tris calciando alle stelle dinanzi a Mazzoni un fulminio contro i piedi orchestrato assieme al nuentrato Milani. Poi è lo stesso Milani ad attancare la profondità, eludere il fuorigioco e calciare a botta sicura trovando però la porta sbarrata da Mazzoni in uscita. Il Tristina ha un doppio sussulto nel finale con Kribek protagonista. Prima l'ex Gubbio si fionda su una seconda palla spostandola sul prediletto Mancino, chiudendo però troppo il diagonale che si perde sul fondo. Poi ancora Kribek riceve sulla colse a destra, sterzata che manda al bar sbardella e sinistro da posizione defilata. Casagrande alza con i pugni a campanile e Benedetti non trova al volo il colpo vincente. Alla fine festeggia la squadra allenata dall'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e termina in maniera agrodolce l'ottima stagione del Tristina che il prossimo anno ripartirà con il già annunciato Luca Pierotti in panchina per raccogliere l'eredità di Marco Bonura atteso sulla costa maremmana alla guida del Follonica Gavorrano, mentre il presidente del Trastevere Betturri ha annunciato che la società presenterà domanda di ripescaggio per la Serie C.